buonasera buonasera ascoltatori di history teller buonasera debuttanti sui history teller radio questa sera trasmettiamo da dove da un posto meraviglioso da casa e già perché in strettissima osservanza con le direttive del governo abbiamo deciso di spostare il nostro studio a casa in un luogo comodo caldo confortevole tranquillo circondato da persone che amo e dalle quali sono profondamente riamato una casa veramente bella e uno studio anche bello perché a tempo di record siamo riusciti a installare e rendere operativo uno studio di registrazione con i fiocchi e le frange grazie anche alla meravigliosa consulenza di quel genio incredibile di quel genio meraviglioso che si chiama di nome salvatore e che tutti conoscono perché è il numero uno per quanto riguarda tutto ciò che serve nell'informatica qualsiasi cosa qualsiasi iasi iasi qualsiasi cosa lui c'è lui c'è lui è presente il suo sito web è visitato da milioni e milioni di persone tutto in tutto ogni giorno e i suoi consigli risolvono centinaia di migliaia di problemi di offrono nuove opportunità quindi grazie salvatore ranzulla per il tuo incredibile preziosissimo contributo il nostro studio quindi è operativo e operativo a tutti gli effetti e quindi questa sera iniziamo iniziamo quindi su questo nuovo canale history teller radio legato all'attività di history teller di divulgazione della storia in maniera completa in maniera esaustiva in maniera soprattutto non convenzionale e quindi questa sera affrontiamo in sintonia con quelle che sono diciamo gli accadimenti che ci stanno circondando affrontiamo il discorso facendo un parallelo piccolo se vogliamo ma molto interessante con ciò che concerne ciò che accadde tantissimi anni fa parliamo di secoli e fu uno scrittore fu uno scrittore importante uno scrittore che oggi quando lo studiamo nelle scuole viene considerato un paio di paio di palle infinito e invece questo signor paio di palle infinito ha un suo perché ha un suo costrutto ha una sua storia ha una sua leggenda se vogliamo ma soprattutto ha una sua importanza fondamentale assolutamente fondamentale stiamo parlando di questo signore che conduceva all'epoca e parliamo quindi della metà del diciottesimo secolo condiceva una vita con uno stile estremamente riservato per cui non è facile inquadrarlo come uomo lui visse per lo più appartato dalla vita pubblica mentre invece noi cosa stiamo facendo stiamo cercando continuamente di apparire anche adesso in questo periodo dove sarebbe bene evitare quanto più possibile le notizie false le affermazioni stupide le notizie inventate quelle proprio fatte per creare panico per creare confusione le notizie fatte per essere diffuse perché la cosa importante è quella di mi raccomando condividi mi raccomando spargi quanto più possibile come dei monatti esattamente come dei monatti come degli untori io questa cosa non l'accetto e non l'accetterò mai oggi le cose che noi facciamo sono esattamente come all'epoca della peste la peste di cui racconta questo personaggio nel suo romanzo più importante sono accadimenti gravi gravi esattamente come gli untori che passavano di casa in casa e attraverso il loro l'urido secchio pieno di immondizia permeata dal virus della peste passavano di casa in casa a ungere le soglie le maniglie le porte tutto quello che potevano ungere per favorire ancora di più il contagio ragazzi uomini donne ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo facendo che cosa stiamo davvero privilegiando al posto dell'umanità del contatto umano che anche se adesso ci è negato per motivi di ovviamente di assoluta sicurezza ma il contatto umano in casa il fatto di privilegiare il dialogo la lettura circondarsi di buoni libri o guardare programmi tv interessanti no noi continuiamo pervicacemente a rimanere sui social e a diffondere anche per ingenuità anche se alcune volte magari non è tanto ingenuità ma stupidità a diffondere queste notizie false questi allarmismi queste torture per il cuore per l'anima per il cervello che potremmo davvero sinceramente risparmiarci e tutto questo lo facciamo ovviamente sempre per il solito motivo sul quale io batto e ribatto continuamente che è l'edonismo che è questo narcisismo malato malato marcio alle fondamenta questo non apparteneva a lui non apparteneva a lui perché lui viveva totalmente appartato dalla vita pubblica si manteneva estraneo dei principali eventi mondani delle città eccettuato la frequentazione del salotto intellettuale tenuto dalla sua amica clara maffei e distante dall'impegno politico attivo dei grandi moti nazionalistici che stavano sconquassando l'italia nel pieno del fervore risorgimentale ricordiamoci che a lui venne offerto un ruolo ministeriale ma proprio perché lui aveva delle caratteristiche importanti che lo limitavano era balbuziente soffriva di crisi di panico soffriva di agorafobia il terrore degli spazi aperti lui diceva io potrei anche accettare e sarei veramente onorato di poter accettare questa carica ma se un giorno il presidente mi chiedesse di tenere un discorso come potrei io davanti a tutti balbettare tergiversare essere preda facile di una crisi di panico che mi porterebbe non solo a essere portato via a braccia dall'aura ministeriale dal parlamento ma addirittura essere ricoverato e allora preferisco di no preferisco mantenere una posizione culturalmente e moralmente favorevole alla causa dell'unità d'italia e queste cose emergono chiaramente nei suoi scritti nella delchi e nel marzo 1821 tutto questo lo spingerà ad accettare la nomina a senatore a vita durante la vecchiaia però il momento in cui parlare mostrarsi fare discorsi altisonanti ormai è inutile e la ragione di questo atteggiamento oltre al suo carattere molto estremamente riservato è da ricercare proprio nei suoi continui disturbi nevrotici che peraltro lui curava con lunghissime passeggiate e con uno stile di vita ovviamente estremamente regolare orari fissi per fare colazione per uscire alla passeggiata per rientrare a casa per il pranzo per riposarsi per scrivere per ricevere persone per cenare per andare a dormire il nostro amico soffriva di agorafobia soffriva di attacchi di panico di ipocondria di svenimenti di fobie varie tipo timore della folla dei tuoni delle pozzanghere ne aveva mille o un milione il nostro uomo era amante del quieto vivere lui conduce una vita apparentemente silenziosa dove si diletta di botanica e di giardinaggio intessendo con uno scrittore dell'epoca tale Foriel un licco epistolario al riguardo e si dedica agli studi alla cura della famiglia anche se per i complessi di cui era afflitto era sempre abbastanza distante oggetto di cure da parte dei suoi cari e alla coltivazione delle amicizie più strette nella conversazione usava l'italiano con i visitatori provenienti da altre regioni italiane per chi veniva dalla Lombardia usava naturalmente il dialetto milanese era poco abile nell'amministrazione dei suoi beni personali e chi non ci è passato dimostrando al contrario una grande attenzione nei confronti del mondo che lo circondava non mancando di giudicare però placidamente con ironia senza ira senza verecondia gli eventi politici e sociali di cui veniva a conoscenza ricordiamoci che lui attraversa tutta la fase della salita e del declino napoleonico dotato di memoria vivacissima di ingegno brillante e di una capacità discorsiva elegante benché alla base minato dalla balbuzie da cui era affetto da tanto tanto tempo com'era il nostro uomo fisicamente? fisicamente era almeno come lo descrive il figliastro Stefano Stampa dice lui era di statura media sì ma media piuttosto alta possiede una misura imponente della persona ed è pari a metri 1 centimetri 72 millimetri 3 egli è di corporatura snella ma nulla affatto esile piuttosto largo di spalle e ben conformato di torso con belle braccia e belle gambe in realtà sarebbe parso un uomo tutto ben fatto se non avesse avuto non il collo torto ma le spalle un po' più alte verso il capo ciò che gli dava l'aria un pochino rannicchiata quasi volesse imitare il suo amico di Recanati la sua testa peraltro era tutt'altro che piccola aveva un gran cervello e sapeva dove contenerlo aveva da giovane i capelli castani gli occhi del del la fal del falco erano acuti brillanti sapevano leggere oltre questi occhi non erano piccoli di grandezza ordinaria di colore cilestre tendente più o meno al verdognolo fronte alta che indicava quindi una grande intelligenza bocca non ampia di grandezza media e con labbra affilate su cui ordinariamente appariva un sorriso un sorriso ben definito dal Cantù un sorriso di chi scherza ma non schernisce di chi sa ridere di se stesso con se stesso per se stesso dotato quindi di un grande senso dell'umorismo e l'ironia specialmente rivolta su se stessi è un potere come ce ne sono pochi al mondo usarlo bene e sfruttarlo asspetto a a a a a a a